Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un mondo sempre più affamato di intrattenimento, Gabriel Garco si appresta a tornare sul piccolo schermo, avvolto in un'aura di mistero e carisma che solo lui sa emanare. Con gli occhiali da sole a celare lo sguardo, e un completo blu che disegna la sua figura ora più snella, Gabriel non è solo un'icona di stile, ma anche il cuore pulsante di, se potessi dirti addio, la nuova serie Mediaset che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Affiancato dalla talentuosa Anna Safroncic, che presta il volto a una neuropsichiatra determinata a risolvere il mistero dietro la morte del marito, Gabriel interpreta Marcello, un paziente senza memoria, che porta sulle spalle il peso di un anno in ospedale. Le loro vite, intrecciate dal destino, si fondono in una narrazione avvincente che esplora i confini dell'amore, della memoria e della ricerca della verità. Ma è l'apparenza di Garco a scatenare il dibattito, dimagrito e con un look che non passa inosservato, suscita reazioni contrastanti tra i fan e i critici sui social. Alcuni lo acclamano come un simbolo di bellezza intramontabile, mentre altri non risparmiano commenti taglienti sulla sua presunta trasformazione estetica. Nonostante le opinioni divise, Gabriel non si lascia scalfire, mantenendo un'aura di serenità e riservatezza sulle vicende del suo cuore, rivelando di essere in un momento di profonda felicità personale. La serie, se potessi dirti addio, non è solo un ritorno alle scene per Garco, ma un viaggio emotivo che promette di conquistare gli spettatori, tra misteri da svelare e sentimenti da esplorare, tutto sotto il segno di un grande amore, quello per la fiction. Che ne pensate? State seguendo la fiction? Come vi sembra questo cambiamento di Gabriel Garco? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!